Cari ascoltatori di Radio Puggino NER, benvenuti ad un nuovo episodio. Io sono Marco Puggini e oggi vi porto dietro le quinte di un fenomeno straordinario che ha catturato l'attenzione e l'immaginazione di molti, la veggente di Trevignano, Gisella Cardia. Questa figura controversa sarà al centro del reportage di Gaston Zama, intitolato Le verità nascoste della veggente di Trevignano. In onda, questa sera, martedì 18 giugno 2024, su Italia 1, durante il programma Le Iene presentano Inside. Preparatevi per un viaggio affascinante, dettagliato nelle molteplici sfaccettature di questo caso enigmatico e significativo e di ciò che vedremo, ascolteremo a sorpresa inaspettatamente in questo episodio delle Iene che promette davvero grandi novità e forse anche significative per quanto riguarda Gisella Cardia e il caso della Madonna di Trevignano. Anche noi abbiamo la fortuna di seguirlo da mesi, ringrazio tutti coloro che ci seguono quasi ogni giorno, commentano insieme a me, cercano di discutere, di dibattere su questo ed altri casi simili per arrivare a delle conclusioni insieme. Grazie a tutti voi che vi siete iscritti al mio canale YouTube Marco Puggini e a tutti gli altri store e social che ospitano Radio Puggini. Grazie davvero di cuore, cercherò di rispondere prima o poi a tutti i commenti, se riesco, altrimenti perdonatemi perché ogni giorno davvero sto ricevendo tantissimi commenti e messaggi ai quali cerco di rispondere ma non è sempre facile, visto il lavoro che dobbiamo fare per portare avanti questo podcast che è una gioia per me e spero anche per tutti voi che mi seguite. Le Iene presentano Inside è una serie di documentari per adesso di due puntate ideata da Davide Parenti che mira a fornire un approfondimento su argomenti di grande interesse già trattati dalla celebre trasmissione Le Iene per ora dicevo naturalmente di due episodi su Gisella Cardia ma anche ci sono altri episodi molto interessanti delle Iene presentano Inside su altri casi di cui abbiamo parlato anche qui a Radio Puggini così come il caso di Rosa e Olindo della strage di Erba. Dunque questo episodio di Radio Puggini si focalizza su Gisella Cardia una donna che sostiene di ricevere apparizioni dalla Madonna nella sua casa Trevignano Romano abbiamo visto anche ieri abbiamo analizzato insieme uno degli ultimi messaggi ricevuti ma anche naturalmente al campo famoso delle Rose che ora c'è un'ordinanza di sgombero insomma sicuramente avrà fatto ricorso la Vergente ma anche il campo è ancora in discussione per quanto riguarda la legalità di ciò che si fa con questi raduni quando la destinazione del campo dovrebbe essere quella di uso agricolo. Dunque questo secondo episodio delle Iene presentano Inside si focalizza su Gisella Cardia una donna che sostiene di ricevere le apparizioni della Madonna e anche i messaggi e tanti altri miracoli di cui abbiamo parlato qui a Radio Puggini on Air a lungo ci sono i radiodocumentari che potete riascoltare soprattutto i 10 miracoli di Gisella Cardia 10 episodi fantastici su ognuno dei miracoli tra cui anche la moltiplicazione del coniglio, della pizza e degli gnocchi e tanti altri di cui abbiamo a lungo parlato. Gaston Zama, l'autore del reportage che vedremo tra poche ore ha dedicato mesi ad esplorare ogni aspetto della vita di Gisella con un accesso senza precedenti alla sua abitazione ai luoghi delle apparizioni al momento dei raduni delle presunte apparizioni e l'accesso anche ai suoi devoti Zama ha cercato di gettare luce sulla verità che si cela dietro questa storia affascinante e complessa cercando di ingannare in un certo senso la veggente e dunque potremmo chiamarla un'inchiesta quasi sotto copertura quella di Zama. La nuova puntata di questa sera promette davvero di svelare nuovi dettagli attraverso interviste, analisi scientifiche e indagini sul campo con un focus particolare sulla controversa statuina miracolosa che avrebbe lacrimato sangue e naturalmente potremmo notare ancora di più le espressioni, i gesti, le parole di Gisella Cardia dette senza sapere magari di essere ripresa o ascoltata. Gisella Cardia è nata a Palermo, ha avuto una vita apparentemente ordinaria fino al 2016 quando durante un pellegrinaggio a Meggiugori ha acquistato una statuina della Madonna poco dopo il suo ritorno a Trevignano Romano la statuina avrebbe iniziato a trasudare lacrime prima lacrime normali, poi lacrime di sangue segnando l'inizio delle sue presunte visioni mariane e ogni mese, il giorno, tre Gisella afferma di ricevere i messaggi della Madonna di vederla apparire durante il raduno che ben sappiamo con tutti i suoi fedeli intorno e spesso questi messaggi che riceve contengono avvertimenti o profezie altro argomento che abbiamo sviscerato a lungo in vari episodi. Dunque il luogo del raduno al Campo delle Rose e la casa di Gisella Cardia a Trevignano sono diventati nel corso del tempo rapidamente un luogo di pellegrinaggio fedeli da ogni parte d'Italia si sono radunati per assistere alle sue presunte estasi che avvengono puntualmente alle 15, secondo lei alle 15 in punto di ogni 3 del mese quindi alle 3 di ogni 3 del mese ma in realtà abbiamo visto dalle dirette streaming che abbiamo potuto osservare su Youtube e sappiamo che per quanto ci sia uno scarto di tempo non è possibile che passino 15 minuti, insomma in realtà queste apparizioni non sono state così precise, puntuali magari ci stanno quei 15 minuti di tolleranza, essendo a Roma in genere si usano 15 minuti di tolleranza per il traffico eccetera così anche è accaduto probabilmente alla Madonna quando doveva apparire a Trevignano le apparizioni mariane sono un fenomeno documentato in molte parti del mondo con esempi famosi come Lourdes, Fatima, Međugorje di cui anche abbiamo parlato e parliamo qui a Radio Puginonair su Međugorje c'è una grande novità sta uscendo un altro episodio su Međugorje, in questi giorni stanno accadendo delle cose importanti un evento a Međugorje che non dovete perdere, andate a cercare questo episodio tra gli ultimi ma dicevo questi eventi di apparizioni tra cui tante altre di cui stiamo parlando sempre di più qui a Radio Puginonair questi eventi dove la Vergine Maria sarebbe apparsa a persone apparentemente comuni spesso accompagnati da messaggi di pace, preghiera e spesso messaggi invece apocalittici di paura hanno sempre suscitato grande interesse e devozione tra i credenti nel caso di Gisella Cardia le sue visioni sembrano seguire un pattern simile la sua descrizione dell'apparizione dei messaggi ricevuti dalla Madonna riflette molti aspetti delle apparizioni mariane tradizionali e anche quelle più nuove come Međugorje ma la frequenza delle sue esperienze e la loro visibilità mediatica le conferiscono un carattere unico e per questo stiamo parlando di lei sempre di più e Zama esplora questi elementi nel suo reportage cercando di capire se le esperienze di Gisella possano essere considerate autentiche apparizioni mariane o se ci siano spiegazioni alternative per la Chiesa questo già è molto chiaro uno dei punti focali del reportage a cui assisteremo questa sera è il test di estasi condotto su Gisella Cardia per verificare l'autenticità delle sue esperienze Gaston Zama ha esaminato le estasi di Gisella in modo dettagliato e questa è una grande notizia staremo a vedere cosa appunto ci proporrà questa sera e durante le sue apparizioni Gisella sembra entrare in uno stato alterato di coscienza con manifestazioni fisiche come immobilità e cambiamenti nella respirazione vedremo, siamo molto curiosi penso anche voi che seguite questo caso insieme a me da tantissimo tempo ormai il reportage mette a confronto le estasi di Gisella con quelle di altri noti veggenti come quelli di Meggiugori che sono stati studiati per decenni da esperti in vari campi inclusi teologi, psicologi e neuroscienziati le analisi condotte includono osservazioni dirette durante le estasi registrazioni, video e analisi dei parametri fisiologici beh, speriamo che sia davvero così insomma questa notizia mi sorprende spero che sia attendibile e reale e vedremo dunque cosa davvero sono riusciti a fare quelli delle Iene gli esperti scientifici intervistati da Zama offrono una varietà di punti di vista sulle esperienze di Gisella alcuni suggeriscono che le sue estasi potrebbero essere spiegate attraverso fenomeni psicologici come l'autoipnosi o la suggestione altri propongono che possano essere il risultato di una profonda esperienza spirituale non necessariamente sovrannaturale ma comunque significativa per l'individuo coinvolto la metodologia di studio delle estasi include l'analisi delle reazioni fisiologiche di Gisella durante le sue esperienze questi dati possono aiutare a capire se le sue estasi mostrano segni di un'autentica alterazione dello stato di coscienza o se potrebbero essere simulate e la ricerca cerca anche di confrontare i suoi fenomeni con casi simili documentati in altri contesti come quelli studiati in ambienti accademici e religiosi e speriamo che sia vera questa indagine che si preannuncia e dunque anche speriamo di poter sapere stanotte prima di andare a dormire qualcosa di più su Gisella Cardia e quanto sta accadendo delle conferme magari per le nostre indagini oppure ulteriori dubbi su cui continuare a dibattere insieme un elemento centrale della storia di Gisella Cardia è la statuina della Madonna che avrebbe iniziato a lacrimare sangue questo fenomeno ha attirato l'attenzione di molti sia credenti che scettici e l'attacca eseguita sulla statuina rappresenta un tentativo scientifico di indagare l'origine di queste lacrime nel reportage l'attacca viene utilizzata per esaminare l'interno della statuina alla ricerca di eventuali cavità o meccanismi che possano spiegare il fenomeno delle lacrime i risultati dell'attacca vengono analizzati da esperti per determinare se ci siano prove di una manipolazione se le lacrime possano essere considerate un miracolo inspiegabile o meglio per la scienza un fenomeno inspiegabile almeno per questo momento l'analisi dell'attacca è stata condotta con rigorosi criteri scientifici a quanto pare esaminando ogni dettaglio della struttura interna della statuina i ricercatori hanno cercato segni di fori tubicini o dispositivi che potrebbero essere stati utilizzati per creare l'illusione delle lacrime abbiamo visto già questo nella prima parte di questo grande speciale di cui vedremo la seconda parte questa sera alle Iene presentano Inside il reportage esplora anche il contesto delle lacrime miracolose dunque considerando se ci siano altre spiegazioni possibili come fenomeni di condensazione o reazioni chimiche che potrebbero causare la formazione di liquidi e la comunità scientifica rimane divisa su questo tema con alcuni esperti che rimangono scettici mentre altri sono aperti all'idea che ci possano essere fenomeni ancora non compresi dalla scienza Gaston Zama ha trascorso del tempo con i fedelissimi di Gisella Cardia coloro che credono fermamente nelle sue visioni e nei suoi messaggi molti sono anche iscritti al mio canale YouTube e al mio podcast Radio Pugigionaire per cui con molti di loro ho uno scambio quasi giornaliero e questi fedeli provengono da background diversi ma sono uniti dalla loro fede in Gisella Cardia come tramite della Madonna le testimonianze raccolte nel reportaggio mostrano come la fede possa avere un impatto profondo sulle vite delle persone molti fedelissimi parlano di esperienze di guarigione miracoli e segni divini che hanno cambiato le loro vite per loro Gisella rappresenta un punto di contatto con il divino un canale attraverso il quale sentono di ricevere guida e conforto Trevignano Romano una piccola città tranquilla sul lago di Bracciano è stata trasformata dalla presenza di Gisella e dei suoi seguaci la città è diventata un punto di pellegrinaggio soprattutto in passato prima che si accendessero così i riflettori su di lei e su questo caso un flusso costante di visitatori che arrivava per partecipare alle apparizioni e alle preghiere mensili il reportaggio esplora come la comunità locale abbia reagito a questa ondata di pellegrinaggi alcuni residenti vedono la presenza di Gisella Cardia come una benedizione che porta vitalità economica e attenzione positiva alla loro città e altri sono preoccupati per l'impatto sul loro stile di vita anche l'impatto di tutto questo sull'ambiente essendo un terreno agricolo dunque un posto preservato comunque per il suo valore ambientale dunque le implicazioni etiche delle affermazioni di Gisella e affermazioni che a volte ci hanno fatto anche a caponare la pelle come alcuni messaggi e rivendicazioni di profezie di cui abbiamo a lungo parlato qui a Radio Pugino NER come ogni fenomeno che tocca temi profondamente personali e spirituali la storia di Gisella Cardia ha attirato anche molti critici e scettici alcuni esperti religiosi mettono in dubbio la veridicità delle sue apparizioni e delle sue estasi tra cui la Chiesa ufficiale suggerendo che potrebbero essere il risultato di suggestione o manipolazione il reportaggio di Zama include interviste con teologi, psicologi e altri esperti che offrono una prospettiva critica sulle affermazioni di Gisella vengono esplorate diverse teorie che potrebbero spiegare le sue esperienze da fenomeni psicologici come l'isteria collettiva a possibili motivazioni personali o economiche dietro le sue affermazioni la Chiesa cattolica è spesso cauta nel riconoscere le apparizioni mariane preferendo un approccio prudente e rigoroso non si sa perché in alcuni casi sì in altri no ma nel caso di Gisella Cardia la diocesi locale è stata molto chiara e ha detto non constate de supernaturalitate non c'è nulla di soprannaturale in ciò che dice e racconta Gisella Cardia dunque i reportaggi di Gaston Zama per le Iene presentano Inside rappresenta un'opportunità forse unica per esplorare ancora di più in modo approfondito le verità nascoste dietro la figura di Gisella Cardia con un accesso senza precedente ai luoghi e alle persone più vicine alla veggente questa puntata promette di essere un viaggio affascinante nel mondo delle apparizioni e dei miracoli sollevando domande importanti sulla fede e la scienza e noi saremo qui per raccontarvi in tempo reale cosa vedremo, ascolteremo da questo reportage le visioni, le apparizioni, le estasi sono fenomeni affascinanti che hanno accompagnato l'umanità attraverso i secoli spesso associati ad esperienze religiose o spirituali nel caso di Gisella Cardia le sue affermazioni di visioni mariane e stati di estasi sollevano domande su come tali esperienze possano essere spiegate dal punto di vista psicologico le visioni in senso generale sono percezioni visive che si manifestano senza uno stimolo esterno reale queste esperienze possono essere vividissime e realistiche al punto da essere indistinguibili dalla realtà per chi le vive le estasi invece sono stati di coscienza alterati spesso caratterizzati da un distacco dalla realtà fisica e un'intensa sensazione di beatitudine o comunione con il divino gli stati di estasi come quelli descritti da Gisella Cardia sono stati di coscienza che vanno oltre il normale funzionamento mentale la psicologia moderna offre diverse spiegazioni per questi stati la teoria più accettata è che durante l'estasi si verifichi una combinazione di fattori neurofisiologici e psicologici durante le esperienze statiche il cervello può entrare in uno stato di ridotta attività nei lobby parietali responsabili dell'orientamento spaziale e della consapevolezza del sé questo potrebbe spiegare perché le persone in estasi spesso descrivono sensazioni di fusione con l'universo o con il divino come se il confine tra sé e il mondo esterno fosse dissolto inoltre l'attività aumentata nei lobby frontali e temporali può contribuire a creare visioni vivide e intense esperienze emozionali questo stato può essere indotto da una varietà di stimoli tra cui la preghiera intensa la meditazione il digiuno o addirittura la privazione sensoriale tutti elementi che possono essere presenti nelle pratiche religiose l'autoipnosi è un altro fenomeno che può spiegare le esperienze di visione ed estasi l'autoipnosi è un processo attraverso il quale un individuo induce in se stesso uno stato di trance caratterizzato da un altro un alto grado di concentrazione concentrazione interna e una ridotta attenzione agli stimoli esterni in questo stato la mente è più suscettibile a suggestioni e immagini vivide nel contesto di Gisella Cardia la ripetizione ritualistica e la concentrazione durante i momenti di presunte apparizioni mariane potrebbero facilitare un tale stato autoipnotico durante l'autoipnosi il cervello può generare immagini e sensazioni che sembrano estremamente reali contribuendo alla convinzione di avere esperienze soprannaturali ma non mi sembra proprio il caso di Gisella perché poi lei scrive il messaggio si rialza subito dopo questa presunta estasi in quei momenti pochi momenti in cui ci è stato concesso di poterla vedere sembra risollevarsi con molta naturalità senza il peso di tutto quello che potrebbe essere vivere una vera estasi soprattutto scrivere il messaggio ricordarlo ma in realtà sembra tutto così naturale poco magico almeno da quello che abbiamo potuto vedere che la cosa che è più presumibile quella più scontata sinora possiamo dire è quella che lei stessa scriva questi messaggi prima li impari a memoria oppure addirittura abbia una copia del messaggio che poi legge dopo la presunta apparizione dunque sembra da quello che abbiamo potuto osservare più un inganno che una presunta estasi almeno da quello che abbiamo potuto osservare sinora poi vedremo cosa ci rivelerà invece dagli studi approfondimenti che hanno fatto alle Iene questa seconda puntata dello speciale su Gisella Cardia diciamo che la suggestione di massa anche è un fenomeno psicologico in cui un gruppo di persone influenzato collettivamente a credere in qualcosa o comportarsi in un certo modo questo fenomeno può verificarsi in contesti religiosi dove l'ambiente è altamente emotivo i partecipanti condividono una forte aspettativa di esperienze mistiche dunque anche in questo caso questo può contribuire al successo di una veggente e nel caso delle presunte apparizioni di Gisella Cardia la suggestione di massa potrebbe giocare un ruolo significativo i perlegrini che si radunano a Trevignano sono spesso spinti dalla speranza di assistere ad un miracolo o di ricevere un segno divino questa forte aspettativa combinata con l'ambiente fervente la presenza di un leader carismatico può creare una situazione in cui le persone sono più inclini a interpretare eventi ambigui come esperienze soprannaturali e studi psicologici hanno dimostrato che in tali contesti le persone possono sperimentare una forma di percezione condivisa dove un evento ordinario è visto come un miracolo grazie alla conferma del gruppo e questo meccanismo di rinforzo collettivo può essere potente rendendo i testimoni più convinti della realtà delle visioni e delle estasi fenomeni simili a quelli attribuiti a Gisella Cardia sono stati documentati numerose altre situazioni storiche e contemporanee l'esempio classico è quello dei veggenti di Meggiugori che da decenni affermano di vedere la Madonna nonostante l'intensa investigazione scientifica e teologica le esperienze di Meggiugori rimangono non ufficialmente riconosciute dalla Chiesa cattolica ma continuano ad attrarre milioni di pellegrini un altro caso emblematico è quello delle visioni della Madonna di Lourdes vissute da Bernadette nel 1858 nonostante le iniziali resistenze le apparizioni di Lourdes sono state poi ufficialmente riconosciute dalla Chiesa il luogo è diventato uno dei più importanti santuari mariani al mondo e da quello Gisella Cardia voleva Gisella Cardia voleva anche imitare prendere il fattore acqua santa che poi abbiamo visto e stiamo scoprendo che è comune in molti veggenti addirittura c'è chi distribuisce un'acqua miracolosa e ci sono molti casi e vi stiamo approfondendo passo dopo passo insieme esempi che mostrano come le visioni e le estasi possano avere un impatto profondo e duraturo sulla fede e sulla cultura dei seguaci indipendentemente dal fatto che siano spiegabili o no in termini scientifici le esperienze di Gisella Cardia si inseriscono in questa lunga tradizione di fenomeni mistici non si è inventata nulla anzi ha preso da tutti sollevando domande forse proprio perché ha voluto esagerare prendere proprio da tutti anche da Gesù quando fa il miracolo della moltiplicazione del cibo voglio dire insomma forse ha esagerato e anche lì si è fatta del male in sintesi le visioni e le estasi come quelle riportate da Gisella Cardia sono fenomeni complessi che possono essere interpretati attraverso molteplici lenti tra cui la psicologia e la sociologia e mentre per molti fedeli queste esperienze sono segni tangibili del divino la scienza offre anche spiegazioni che pongono l'accento sui processi mentali e sulle dinamiche di gruppo e poi c'è la magistratura che invece fa un altro tipo di indagini e cerca di capire se sono semplicemente delle grandissime truffe delle grandissime truffe uno dei fenomeni più affascinanti e controversi legati alle apparizioni e ai miracoli sono le statuine che lacrimano e questi eventi in cui statue statuine diciamo religiose anche statue più grandi sembrano piangere sangue o lacrime è successo anche dei quadri hanno attratto l'attenzione di milioni di fedeli e suscitato grande interesse mediatico nel caso di Gisella Cardia una statuina in particolare della Madonna che lei possiede al centro delle sue affermazioni di miracoli sostenendo che questa trasudi lacrime vediamo altre storie simili di cui abbiamo già parlato ma riassumiamole in due righe Civitavecchia 1995 uno dei casi più noti in Italia la Madonna di Civitavecchia iniziò a lacrimare nel 1995 evento che attirò l'attenzione mondiale e portò a numerose indagini scientifiche e religiose ma anche lì ancora continuano a radunarsi dei pellegrini intorno a questa presunta Madonna di Civitavecchia e la Chiesa non ha fatto nulla in confronto a quello che ha fatto per quanto riguarda Gisella Cardia ad Akita nel Giappone nel 1973 la statuina della Madonna di Akita ha pianto in più occasioni le lacrime sono state analizzate e identificate come umane e la Chiesa Cattolica ha approvato il culto mariano associato a queste lacrime ci sono tanti casi approvati dalla Chiesa Cattolica in tanti paesi cittadine parrocchie italiane che riguardano presunte lacrimazioni di statue anche quadri della Madonna rappresentazioni in genere di questa figura così importante per la Chiesa Cattolica tanto che ne è nato un culto che in certe occasioni sembra proprio un culto a sé come se la Madonna fosse una divinità una dea come i tempi dei Greci o dei Romani per quanto riguarda le lacrimazioni di queste statuine le indagini scientifiche spesso includono analisi chimiche delle lacrime o del sangue che fuoriesce dalle statuine queste analisi possono determinare se i liquidi sono di origine umana o se provengono da altre fonti ma tutto lì insomma eppure una volta che è stabilito che sono di origine umana oppure vengono da altre fonti cosa cambia insomma cosa ne sappiamo noi di come di quale tipo di sangue ha scelto la Madonna per far lacrimare una statua nel caso della statuina di Gisella Cardia è stata eseguita un'attacca per esaminare l'interno della statua e cercare eventuali meccanismi nascosti che potrebbero spiegare il fenomeno questo tipo di indagine può rilevare cavità nascoste o strutture anomale che potrebbero simulare la lacrimazione e alcuni scienziati eseguono analisi microbiologiche per rilevare la presenza di microorganismi che potrebbero produrre umidità o secrezioni in diversi casi le indagini scientifiche hanno rivelato frodi o spiegazioni naturali dietro le lacrimazioni per esempio è stato scoperto che alcune statuine contenevano piccole riserve di liquido nascosto o utilizzavano materiali igroscopici che assorbono umidità e poi la rilasciano successivamente magari in determinate condizioni atmosferiche tuttavia ci sono anche molti casi in cui la scienza non è stata in grado di fornire una spiegazione scientifica in questi casi le analisi scientifiche non hanno portato trovato prove di manipolazione lasciando il fenomeno aperto all'interpretazione religiosa o mistica le esperienze di estasi e apparizioni come quelle di Gisela Cardia sono state oggetto di studio da parte della teologia e della scienza questi fenomeni in cui individui affermano di entrare in uno stato di transe o di avere visioni divine suscitano grande interesse e scetticismo durante le estasi vengono spesso monitorati i segni vitali del veggente inclusi il ritmo cardiaco la pressione sanguina sanguigna sanguigna come si sanguigna e attività celebrale questi dati possono rivelare se il veggente sta sperimentando uno stato alterato di coscienza e se questo stato ha caratteristiche uniche rispetto a condizioni come l'epilessia o la narcolessia gli scienziati osservano anche il comportamento del veggente durante le estasi cercando segni di dissociazione o altri fenomeni psicologici che potrebbero spiegare le visioni il confronto con veggenti noti come quelli di Meggiugori aiuta a creare un quadro comparativo gli studi su veggenti noti come quelli di Meggiugori hanno mostrato che durante le apparizioni i soggetti entrano in uno stato di trance in cui sono insensibili agli stimoli esterni tuttavia non è chiaro se questo stato si è generato da un'esperienza mistica o da un fenomeno neurofisiologico la psicologia offre diverse spiegazioni per le esperienze di estasi e visioni tra cui l'autoipnosi e la dissociazione questi fenomeni possono essere indotti da un forte desiderio di connessione con il divino o da un bisogno psicologico di validazione ma in certi casi davvero stiamo facendo un favore anche utilizzando la scienza facciamo un favore ai veggenti nel senso che è molto chiaro che sono tutte delle grandissime bugie ma la scienza naturalmente non può dimostrare nemmeno quello la tensione tra fede e scetticismo è evidente in tutti i casi miracolosi mentre per molti fedeli queste esperienze rappresentano un'interazione autentica con il divino gli scienziati gli razionalisti cercano spiegazioni che possano essere comprese attraverso la lente della scienza o della razionalità per i fedeli le apparizioni e miracoli sono eventi inspiegabili ma esperienze trasformative rafforzano la loro fede e danno un significato profondo alla loro vita le storie personali dei pellegrini a Trevegnano Romano illustrano come la fede in Gisella Cardia abbia cambiato le loro vite offrendo speranza e conforto anche quando i fenomeni non possono essere spiegati scientificamente per molti credenti il loro valore simbolico supera la necessità di una spiegazione razionale pensate le lacrime della statuina possono essere viste come un segno di compassione divina indipendentemente dalla loro origine o dal significato che poi gli viene attribuito dalla veggente lo scetticismo svolge un ruolo cruciale nel proteggere le persone da potenziali raggiri e manipolazioni indagini rigorose sui fenomeni miracolosi aiutano a distinguere tra esperienze autentiche e frodi deliberate e per molti scienziati e razionalisti comprendere i fenomeni miracolosi è una parte della ricerca continua della verità anche quando la scienza non riesce a spiegare completamente un fenomeno il processo di indagine contribuisce ad una maggiore comprensione del mondo e poi come dico sempre sarà mica chi afferma di ricevere o vedere o fare certe cose che dovrà spiegare lui e razionalmente ciò che accade in modo tale che tutti possano accettarlo perché chiunque può inventarsi in apparizione o qualsiasi altro miracolo e poi non può costringere però tutti gli altri a credere in quello che si è inventato insomma così anche con le religioni dovrebbe funzionare sono loro a dover dimostrare l'autenticità chi non ci crede a dover dimostrare che non esiste ciò che loro affermano è una contraddizione direi altrimenti diventa proprio dell'intelligenza un'offesa all'intelligenza umana in Italia la libertà religiosa è un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione tuttavia la gestione dei fenomeni religiosi specialmente quando attraggono un grande seguito e presentano affermazioni straordinarie come le apparizioni mariane richiede un delicato equilibrio tra rispetto della fede individuale e protezione dei fedeli da possibili abusi o frodi il caso di Gisella Cardia con le sue presunte visioni apparizioni solleva questioni legali ed etiche significative che meritano un'analisi approfondita in Italia la regolamentazione dei culti religiosi è disciplinata da diverse leggi e regolamenti la Costituzione italiana nell'articolo 19 garantisce la libertà di professare la propria fede religiosa individualmente o in comunità purché non si tratti di pratiche contrarie al buon costume inoltre l'articolo 8 riconosce a tutte le confessioni scusate l'articolo 8 riconosce a tutte le confessioni religiose la libertà di organizzarsi secondo i propri statuti purché non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano tuttavia quando un gruppo religioso o un individuo come nel caso di Gisella Cardia che poi col marito è accusata di truffa aggravata in concorso dunque insieme al marito dalle ultime notizie che vi abbiamo date dunque se non ne sapete nulla andate a rivedere questo episodio che parla proprio della truffa aggravata di cui è accusata Gisella Cardia ed indagata ufficialmente per la denuncia di Luigi Avella l'ex seguace di cui abbiamo parlato a lungo andate a rivedere questi episodi se ve li siete persi ma dicevo tuttavia quando un gruppo religioso o un individuo attira un numero significativo di seguaci inizia ad influenzare la vita economica e sociale della comunità locale le autorità possono intervenire per garantire che le attività siano conformi alle leggi vigenti e questo intervento può includere la verifica della gestione dei fondi per quanto riguarda l'associazione l'assicurazione della sicurezza pubblica la protezione dei diritti dei fedeli nonché poi l'uso proprio o improprio del terreno del luogo dove avvengono questi raduni uno degli aspetti più delicati nella gestione di fenomeni religiosi come quelli attribuiti a Gisella Cardia è la protezione dei fedeli da possibili abusi o manipolazioni le autorità italiane inclusa la magistratura le forze dell'ordine possono intervenire se ci sono sospetti di attività fraudolenta o se i diritti dei fedeli sono messi a rischio nel caso delle apparizioni Mariana Travignano le indagini delle autorità si sono concentrate sulla verifica dell'autenticità delle affermazioni di Gisella Cardia sulla gestione delle donazioni e dei fondi raccolti dai fedeli esistono preoccupazioni che tali fondi possano essere utilizzati in modo non trasparente o che i fedeli possano essere indotti soprattutto a donare somme ingenti di denaro come nel caso di Luigi Avella sotto la promessa di benefici spirituali o miracoli in momenti difficili come quelli che lo stesso Avella ha raccontato stava affrontando in quel momento così anche il caso di Paola Felli l'ex portavoce e altri di cui abbiamo parlato qui a Radio Puggino NER le leggi italiane prevedono che qualsiasi raccolta di fondi si frodi già stavo dicendo qualsiasi raccolta di fondi effettuata in nome di un culto religioso debba essere gestita con trasparenza e rispetto delle normative fiscali le autorità possono richiedere conti dettagliati e possono indagare su possibili frodi finanziarie oltre alle indagini delle autorità civili anche la Chiesa cattolica gioca un ruolo cruciale nella regolamentazione e valutazione di fenomeni religiosi perché comunque sono dei fedeli che arrivano proprio dalla Chiesa dunque le indagini della Chiesa possono includere l'esame delle esperienze mistiche la raccolta di testimonianze e analisi delle conseguenze spirituali e morali per la comunità nel caso di Gisella Cardia la diocesi ha espresso proprio una contraddizione dunque una non conformità a ciò che è la dottrina cattolica nei messaggi che la presunta Madonna di Trevignano secondo la veggente da regala attraverso di lei a tutta l'umanità ogni tre del mese sul campo delle rose e come sappiamo ora sempre più spesso anche a casa sua e ce lo fa leggere il messaggio e la sua riflessione sul sito ufficiale e sulla sua pagina Facebook oltre agli aspetti legali ci sono anche considerazioni etiche riguardanti il seguito dei fenomeni religiosi la devozione a figure come Gisella Cardia può portare conforto e speranza a molti ma può anche esporre i fedeli a rischi di manipolazione è essenziale considerare il benessere psicologico e spirituale dei seguaci garantendo che le loro credenze non siano sfruttate per fini personali o economici e un approccio etico alla gestione di tali fenomeni include la promozione di un ambiente di trasparenza la protezione delle persone vulnerabili e l'educazione dei fedeli sulla necessità di equilibrio tra fede e razionalità i media i leader religiosi e le loro e le loro autorità e anche le autorità civili hanno tutti un ruolo importante nel garantire che le pratiche religiose siano condotte in modo rispettoso e responsabile e siamo giunti alla conclusione di questo primo episodio di Radio Pugino Nerd dedicato a questo speciale delle Iene che stiamo attendendo per vedere i nuovi risvolti le novità le notizie che ci saranno e che analizzeremo e commenteremo insieme in tempo reale e vi ringrazio per averci seguito in questo viaggio attraverso le misteriose apparizioni della veggente di Trevignano Gisella Cardia la sua storia fatta di presunte visioni fenomeni miracolosi messaggi apocalittici e quant'altro miracoli di tutti i tipi tra cui la moltiplicazione del cibo ha affascinato e diviso l'opinione pubblica sollevando dubbi e accendendo la fede invece nella veggente da parte di alcune persone ma cosa accadrà domani sera cosa ci rivelerà il reportage di Gaston Zama per le Iene presentano Inside il programma promette di svelare nuovi dettagli e riprese inedite che potrebbero gettare una nuova luce del tutto inedita su Gisella Cardia e le sue apparizioni la verità nascosta dietro la sua figura controversa sarà chissà se sarà finalmente rivelata e queste rivelazioni decreteranno la fine della sua credibilità presso i suoi seguaci e quei pochi seguaci rimasti naturalmente sempre con tutto il rispetto ma è la verità sono dati reali dunque questa sera martedì 18 giugno in Prime Time su Italia 1 non perdetevi l'appuntamento con le Iene presentano Inside sarà una serata di rivelazioni presunte anche qui che potrebbe dunque promette di essere sorprendente e dirompente Radio Puggino NER sarà qui in prima linea per seguire in tempo reale tutte le novità sul caso di Gisella Cardia la Madonna di Trevignano Romano subito dopo la trasmissione torneremo in onda con un episodio speciale per commentare insieme a voi tutti i segreti che verranno svelati e per analizzare le ripercussioni che queste nuove informazioni potrebbero avere sulla figura della veggente ma non dobbiamo aspettare stanotte per iniziare a parlarne a discuterne vi invito a commentare questo episodio del nostro podcast ad unirvi al nostro dibattito cosa ne pensate delle apparizioni di Gisella Cardia credete che ci sia una verità nascosta che deve ancora emergere ed emergerà probabilmente questa sera dalla puntata delle Iene o pensate che queste nuove rivelazioni non cambieranno nulla scriveteci sui nostri canali social sotto il nostro podcast partecipate alla conversazione condividete le vostre opinioni siamo curiosi di sapere cosa ne pensate e pronti ad esplorare ogni angolo di questa storia affascinante e complessa insieme a voi vi chiedo come sempre scusa perché non riesco sempre a rispondere a tutti i commenti sono tanti su vari argomenti ogni giorno cerco di rispondere ad alcuni i primi commenti che mi capitano sotto mano quando sono troppi e non ho tempo proprio per dare un abbraccio comunque a tutti gli altri a cui non ho risposto ma vedrete che piano piano cerco di rimediare con tutti voi scrivete dunque ricordate le Iene presentano Inside questa sera martedì 18 giugno 2024 in Prime Time su Italia 1 non mancate perché questa esclusiva potrebbe cambiare tutto chi lo sa io sono Marco Puggini vi ringrazio per averci seguito su Radio Puggino NER continuate a sintonizzarvi anche e soprattutto dunque nelle prossime ore per altri approfondimenti vi auguro una splendida giornata ci sentiamo questa sera per un evento imperdibile alla prossima puntata di Radio Puggino NER per la prossima puntata per la prossima puntata